9 anni e 8 mesi di reclusione. I giudici della Corte d'Appello hanno confermato la sentenza di primo grado che il Tribunale di Padova aveva inflitto un cinquantenne di battaglia terme accusato di abusi nei confronti della figliastra. Le violenze sono durate 8 anni e sono iniziate quando la piccola ne aveva appena 7. Minacce e sopprusi fino a quando dopo l'ennesimo pestaggio tra le mura domestiche la ragazzina è finita in pronto soccorso ha confessato il suo calvario. Oggi la giovane è ospite di una casa famiglia mentre la madre è incapace di intendere e di volere ricoverati in ospedale a causa di una grave patologia neurovegetativa. Nel 2015 ai medici la ragazzina confessò anche le violenze carnali raccontate in una lettera dettagliata ai servizi sociali. L'anno scorso in primo grado il Pratignorco venne condannato a 9 anni e 8 mesi, una pena che ora è stata confermata anche in appello.